Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. 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 non 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 La balanza si fa così Lì, sono qui, la bimba Tutti i figli da piedi, ma di risolvere Quando non vengono, non vieno a stavola E non c'è la storia, per il sol E non vieno a fare il suo vero Tornare al C Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Se vi ruba la padezza lì Con classe, con dottie algerina Via Grazie a tutti 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 Grazie a tutti